La puccia è un formato di pane tipico della tradizione pugliese. In Puglia farciamo questo panino veramente con tutto, salumi, mozzarella, hamburger, cotoletta, uccelletti, salse, patatine e quant'altro. Ma prepariamole insieme. Iniziamo inserendo nel boccale del robot 300 g di acqua e 3 g di lievito di birra e impostiamo 3 minuti a velocità 2-37 gradi centigradi. Poi inseriamo 250 g di farina di semola rimacinata e 250 g di farina o zero. Impostiamo la modalità impastare 2 minuti a velocità 4. Mentre il robot impasta inseriamo dopo circa 30 secondi 15 g di sale e successivamente 50 g di olio extravergine di oliva. Lasciamo riposare l'impasto per circa 30 minuti all'interno del boccale. Dopo 30 minuti spostiamo l'impasto sul piano di lavoro e facciamo delle pieghe verso l'interno. Sistemiamo l'impasto in una coppa. Chiudiamo con pellicola oppure con un coperchio e facciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno circa 2-3 ore. Terminata questa lievitazione formiamo 6 palline d'impasto che andremo a coprire con pellicola trasparente. Facciamo lievitare ancora 2 ore. Terminata anche questa lievitazione iniziamo a scaldare il forno alla massima temperatura in modalità forno ventilato. Estendiamo con i polpastrelli l'impasto. I dischi dovranno essere spessi circa 1 cm. Raggiunta la temperatura del forno inforniamo sulla leccarda nella parte bassa del forno. Dopo circa 10-15 minuti le nostre pucce sono pronte per essere aperte e farcite come più preferiamo. Lascia un like e iscriviti al canale se questa ricetta ti è piaciuta.